Oggi intervistiamo alcuni prodotti del supermercato. Signor Pelato, come si sente? Non lo vede? Sono in crisi di identità. La mia etichetta non spiega da dove vengo. Mr Glutammato, la accusano di rendere uniformi i sapori. Scusi, ma quali sapori? E lei, signorina Muzzarella, perché trema? Tengo paura, sta la criminalità. La vediamo un po' accasciata, signora Pera. Claro che sì, sono arrivata ora dalla Argentina. Qual è il tuo desiderio segreto? Non essere più raccolto per quattro soldi da persone in stato di schiavitù. Non dover fare più la doccia con sostanze chimiche nocive. Sostieni il nuovo progetto di Altre Economie Edizioni. Da 15 anni raccontiamo il consumo critico e un modo di fare la spesa più sano e giusto per noi e per l'ambiente. Oggi abbiamo deciso di raccontarlo anche ai bambini, i cittadini di oggi e del futuro, con una nuova collana di libri. Il protagonista di queste storie è Opto, un topolino curioso e coraggioso. La sua prima avventura si intitola Opto al Mercastupore. Provate a indovinare dove è ambientata? Sostienici! Grazie! Smentisco tutto, nella maniera più assoluta! E questo chi è? L'avvocato delle cause perse! Ehm! Ehm! Ehm!